Buonasera, dunque stasera cercheremo di vedere come fare una sedia con blender in uno dei modi più semplici che riesco a trovare. Partendo dal nostro cubo, quindi vediamo che abbiamo questo cubo, la prima cosa che dobbiamo accertarci per poter lavorare un minimo decentemente è di avere una grigliatura, una grid allineata magari non dal metro ma ce l'allineiamo magari ai 10 cm, 0.1, in modo da potersi allineare ai decimetri. Una volta che abbiamo questo allineamento nella griglia andiamo in modalità di edit, vedete che abbiamo questo cubo, la cosa fondamentale che vogliamo fare è di innanzitutto fare il piano dove si siede, quindi adesso è troppo alto, teniamolo un metro per un metro anche se poco realistico, ma per motivi didattici facciamo, anzi due metri sarebbe questo, quindi sarebbe una sedia enorme, al limite la si rimpicciolisce dopo. Quindi facciamo A, deselezioniamo tutto, andiamo sulla selezione delle facce, selezioniamo la faccia superiore e poi la abbassiamo in maniera tale da ottenere il nostro sedile. Prendiamo CTRL per allinearci come vedete alla griglia. Adesso è piatto, 10 cm, 20 cm e così abbiamo il nostro sedile. Dunque, la cosa successiva da fare è fare lo schienale. Per fare lo schienale, togliamo la selezione, dobbiamo avere un loop qua, diciamo che facciamo tutto di 20 cm, quindi dobbiamo fare CTRL R per raggiungere un livello di dettaglio, diciamo CTRL R, poi clicchiamo col tasto sinistro del mouse, in modo tale da spostare, vedete la linea di separazione, se teniamo premuto CTRL ci allineiamo sulla griglia, quindi facciamo 10, 20, scusate, 10, no? Allora, rifacciamo, CTRL R, tasto CTRL, 2, ok, qui bisogna avere un attimo di esercizio, vedete che non è banale. Allora, una volta che siamo arrivati a questo, possiamo selezionare la faccia corrispondente a questa e la possiamo estrudere, quindi con E di tastiera, la estrudiamo verso l'alto quanto basta per fare un sedile che possa essere significativo. Quindi a questo punto abbiamo fatto il sedile e il di dietro della sedia, dobbiamo fare le gambe, per fare le gambe dobbiamo estrudere verso il basso, ma dobbiamo avere chiaramente la parte, insomma i quadrati da cui estrudere. Per farlo giochiamo sempre con CTRL R, quindi facciamo CTRL R, giochiamo che col CTRL, in modo tale da essere precisi, ok, quindi avete visto abbiamo aggiunto questo edge loop, ne aggiungiamo un altro qua e un altro qua, in modo tale da avere tutte le cose che ci saranno. Facciamo CTRL R, dobbiamo farlo dall'altra direzione, 1, 2, ok, e poi manca qua, CTRL R, prendiamo CTRL, ok. A questo punto abbiamo tutto necessario per fare le gambe, possiamo fare tutto insieme nel senso che selezioniamo questa faccia, notate che siamo in modalità selezionare faccia, con lo SHIFT premiamo la seconda faccia, la terza faccia e la quarta faccia e poi estrudiamo con E, estrudiamo tutto verso lungo l'asse Y, ok. A questo punto la sedia sarebbe già virtualmente pronta, l'unica accortezza che volevo ancora fare era arrotondare leggermente la parte di sopra. Per arrotondarla, prima di tutto, cerchiamo con il tastellino numerico una visuale che ci permetta di vedere la sedia, questa qua, il 7, direi che è quello ideale, quindi prendiamo il 7 e a questo punto aggiungiamo un po' di anelli perché vogliamo fare un po' di curvatura qua. Quindi per fare curvatura sullo schienale facciamo CTRL R, rotellina, ci prendiamo 2 e 3 edge loop, poi questi edge loop usiamo un altro trucchetto per sollevarli verso sopra, per averli tutti in alto, quindi selezioniamo con questa, la linea, facciamo ALT, e premendo ALT col tasto destro abbiamo selezionato tutto l'edge loop. Questo edge loop lo avviciniamo in alto, quindi lo tiriamo su, con CTRL andiamo su 20 cm, facciamo ALT, celezioniamo il secondo edge loop, questo, lo tiriamo su, sempre con CTRL in realtà da averlo allineato, con ALT prendiamo il terzo edge loop, lo tiriamo su, CTRL teniamo allineato, ok. A questo punto la nostra idea è quella di restringere un pochino l'ultima parte, quindi prendiamo sempre 7, usiamo questa volta A, togliamo la selezione, B, selezioniamo soltanto i punti qui in alto, ok, e poi lo stringiamo per ottenere il top della sedia abbastanza stretto, facciamo scala S lungo la X, lungo la X, vediamo qua che la X è quella che ci interessa, oppure anche qua, poi facciamo S, X e restringiamo tutto ciò, diciamo, ad esempio qua. A, per selezionare, prendiamo la seconda fila di punti, la stringiamo anche questa, magari la tiriamo un pochino più su, ok, e la stringiamo con la S, X, ok, poi A, la selezioniamo, con B prendiamo la terza fila di punti, questa, e anche questa la scariamo leggermente sullo X, basta poco, ok, la nostra idea è quella di avere, vedete, un profilo arrotondato, e questo è, diciamo, poi tutto quanto è necessario per fare una semplicissima sedia in blender. L'ultimo pezzo che abbiamo visto, magari ci si piega un po', ma con un pochino di accortezza si riesce a fare abbastanza velocemente. Grazie, è tutto, ci sentiamo, ciao.